Questa è la seconda telecamera, l'altra è stata montata ai cantieri Rossini di Pesaro e quindi con questa gabice qui al Mississippi abbiamo coperto tutta l'area e chiaramente dovrebbe scongiurare gli incendi per molestando che con un incontro fatto anche in prefettura ci hanno dato altri suggerimenti e altre cose da migliorare e da modificare. La situazione del parco va nettamente migliorata, inizieremo a lavorare da fine stagione, prepararci in maniera programmata per l'estate 2024 e quindi dovremo anche ragionare sugli invasi come ci ha chiesto la prefettura, dovremo risolvere il problema della mondezza che gira e quindi ripianificare tutta una serie di attività per evitare gli incendi e migliorare anche le visite di turisti che trovano un posto bello ma anche ben tenuto. Fine estate presenteremo il programma dei prossimi 5 anni partendo sulle priorità e anche sui tempi tecnici per realizzarli perché purtroppo con la burocrazia che c'è i tempi si allungano e quindi dovremo mettere in cantiere diverse iniziative e realizzarle mano a mano che si possono realizzare. Noi siamo molto orgogliosi del nostro parco che è un gioiellino che aggiunge valore alla nostra località che vive di turismo. Ecco questa telecamera, la tecnologia per fortuna va avanti, ecco questa nuova tecnologia ci permette di monitorare il parco e segnalare sul nascere i principi di incendio quindi una ottima opera preventiva per la tutela del San Bartolo. Non dobbiamo abbassare la guardia e comunque non fidarci solo della tecnologia ma puntare anche sulla collaborazione di tutte le risorse coinvolte. Mi riferisco alla protezione civile, vigili del fuoco, guardie, caramiglieri forestali ma anche gli stessi fruitori del parco, gli sportivi, ciclisti o quelli che fanno trekking comunque possono dare una grossa mano nel aiutare a prevenire questi fenomeni, segnalare situazioni critiche. Ecco